Nuovo esposto del Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico. L'istanza fa seguito alle richieste avanzate all'amministrazione nelle settimane scorse sulla necessità di mettere in campo iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini. Nello specifico, il Comitato chiede le certificazioni in merito alle analisi sulla rete idrica comunale con riferimento ai metalli pesanti e alle sostanze inquinanti. A ciò si aggiunge la richiesta di effettuare sondaggi nelle falde acquifere in corrispondenza delle discariche Castelluccio e Grataglie e certificazioni su discariche e lo smaltimento delle sostanze pericolose delle aziende del territorio. A chiudere, la richiesta di controlli sui canali utilizzati per l'irrigazione nella Piana del Sele.